Caspita, ti sei rimesso nuovo, eh? Little Closet, Soviet, Saverlini, Kao, Commerco Star, Winchester, Full Star, Carrie Moore E tutti i marchi famosi E tutti al centro moda Fratelli Chiostri a Colle Petro E per me non c'è niente Come no? Trovi anche Brand Ash, i giovani vestono nuovo al centro moda Fratelli Chiostri a Colle Petro Il look che ti fa strada